In un mondo che non ci vuole più, il mio canto è libero, Siete voi, e lì me si dà, si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo, e va. E vola sulle accuse della gente, ha tutti i suoi retaggi indifferente, Sorretto da un annelito d'amore, di vero amore. Beh, secondo voi non è troppo lenta questa canzone, dobbiamo riavvivare, che ne dici tu? Secondo me loro si sono ingelositi, le uniti tu e te. Cos'è che possiamo fare? Possiamo fare. Andrea. Vai, pensaci tu. Andrea, batteria, mazzia, basso, alueso, tastiera, ci sei? Andiamo. Fatevi un grande applauso, che sono bravissimi, è la prima volta che ci seguiamo insieme stasera. Vai Andrea, facci vedere tu un po' come si fa. Fai le mani! In un mondo che il bingegniero è, che speriamo liberi, Lui e te, è la verità, si offre il mondo a noi, e limita è l'immagine, ormai. Trove sensazioni, trovani emozioni, si spiorano purissime, ormai. Tutti, 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 sulle mani, su tutti quanti. Grazie. Grazie. Grazie.